Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano 3 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, un km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è entrata chiusa ad Empoli Est in direzione Firenze, spostandoci in A1 in direzione Roma a rallentamenti per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Nord. Sulla strada provinciale 10 di Valdelsa, nel comune di Empoli, da domani chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia tra i km 0 e 120 e 0 e 143. Per la viabilità cittadina a Firenze sul ponte Vespucci, lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra, arriva anche la pista ciclabile. Ed è tutto, buon viaggio!